Bitonto regge bene l'emergenza coronavirus. Nonostante la paura per il caso siciliani e per il contagio accertato di quattro dipendenti bitontini dell'azienda, i numeri restano confortanti. I dati aggiornati a stamattina sono quattro persone positive in isolamento fiduciario e poi non c'è nemmeno uno ricoverato e questo è molto importante. Come spiegato dal comandante della polizia locale, tanti concittadini hanno ormai terminato la loro quarantena e grazie alle cure sono tornati negativi. Vietato però abbassare la guardia, anche per oggi, domani e per il primo maggio, l'imperativo è restare in casa. Il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha anche disposto la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di farmacie, parafarmacie ed edicole. Nessuna limitazione però per il servizio a domicilio. A vigilare sul rispetto dell'ordinanza le forze dell'ordine, che intensificano ancora di più i loro controlli. Ci sono le pattuglie dappertutto, in entrata e in uscita dalla città, compreso anche le frazioni. La formula era stata già tentata in città per Pasqua e Pasquetta, ottenendo ottimi risultati. Le centinaia di persone fermate erano infatti tutte dotate di autocertificazione valida. Credo abbiano compreso il messaggio che restare a casa non significa fare un piacere a un altro, ma innanzitutto fare piacere a se stessi e poi dare un contributo importante alla nostra comunità. I furbetti però non mancano. Proprio qualche giorno fa la Polizia di Stato ha dovuto chiudere altri due bar, che vendevano abusivamente i loro prodotti all'esterno dell'attività. Sanzionati, oltre ai titolari, anche cinque avventori. Da sottolineare però è l'impegno di tanti, che con sacrifici e lungimiranza hanno permesso di evitare che la situazione bitontina diventasse drammatica. Devo fare i complimenti anche alle varie strutture socio-residenziali che noi abbiamo sul territorio, perché loro per prime erano sotto rischio e mettevano a rischio la comunità e hanno capito immediatamente che era necessario chiudere ed essere molto rigidi. Per tutti è necessario stringere ancora i denti e compiere ancora un piccolo sforzo. Speriamo che il 4 maggio possiamo contare su dati sanitari più confortanti per noi e di ritornare inevitabilmente con regole che limiteranno la nostra libertà. Questa festa veramente sia prodromica di una libertà, quant'è anche vigilata, però libertà di muoverci, di poter occuparci della vita quotidiana, che sinceramente in questi due mesi è stata molto pesante. Grazie a tutti.